chiedo ai presentatori di dirmi l'età del cane che presentano all'ingresso perché possiamo citarla in questo caso a te laura l'onore di presentare il giudice dalla spagna ramirez muñoz manuel molto grazie per restare qui ed eccoci quindi pronti per presentare lo schnauzzer gigante di 9 anni 7 di irlandese di 8 anni 15 anni per il barbone nero 8 anni e mezzo per il barbone toy 8 anni per il goder retriever 9 anni e mezzo per il welsh cork e preembroke 13 anni jack russell terrier 9 anni e mezzo per il cairn terrier 8 anni per il vasotto standard a pelo lungo 10 anni per lettera 18 anni per lettera un giro tutti insieme con calma grazie grazie come avete potuto apprezzare i soggetti ancora in forma nonostante l'età in qualche caso decisamente elevata a manifestare come effettivamente molti allevatori conservino questi splendidi soggetti per lunghi anni possiamo annunciare al terzo posto Riese Schnauzer Nero secondo posto American Staffordshire Terrier Siamo quindi Grazie a tutti Grazie a tutti